Tu piaci quindi alle donne, come te lo spieghi? Cioè com'è come te lo spieghi? Abbiamo avuto molte telefonate da parte di donne e dicevano perché non è venuto Massimo Troisi la scorsa settimana. Quindi noi desumiamo che tu piaci molto alle donne, ecco tu come te lo spieghi? A me è l'ultima cosa che non capisci, cioè tu come te lo spieghi, che significa? Come ti spieghi questa cosa? No, come ti spieghi il fatto che tu piaccia, come te lo spieghi? Ma non mi spiego, Pippo è una cosa normale, uno è uomo e piace alle donne, se è donna piace all'uomo, cioè se mi ha distritto a me ricevere un sacco di telefonate di cavalli che dicevano, ci piace Troisi, allora dicevo ma Pippo come te lo spieghi?